Infrastrutture e trasporti, davvero strumenti essenziali per la nostra economia, dovrebbero fungere da volano e purtroppo molto spesso non è così. Il territorio ionico, l'area di Taranto e la sua provincia vivono certamente delle situazioni di handicap, di gap. Come colmarli? Ne parliamo con Antonio Scalera, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia domani, fitto presidente. Devo dire subito che questo è un impegno che posso prendere tranquillamente con gli elettori, quello di dare a Taranto e alla provincia di Taranto tutto quello che manca per quanto riguarda le strutture e infrastrutture. L'autostrada, portualità e retroportualità, aeroporto di Grottaglie, centri intermodali, se non si fa tutto questo è un territorio che non decollerà mai dal punto di vista economico e ferroviario. Noi dal punto di vista ferroviario non abbiamo l'alta velocità, non abbiamo il raddoppio, si parla, ma alla fine le chiacchiere stanno a zero. Noi dobbiamo dare a questo territorio il raddoppio, l'alta velocità, l'aeroporto di Grottaglie va valorizzato. Il porto di Taranto è tutta la retroportualità che è importante come sviluppo economico. Se queste cose non vengono fatte e nessuno si impegna a farle, purtroppo è un territorio che rimarrà sempre come fanalino di coda rispetto a tutta la Puglia, a tutto il territorio nazionale. Questo è un impegno che assumo di fronte a tutti gli elettori. Raddoppio, ferroviario, aeroporto di Grottaglie, autostrada. La sua strada non può finire dove finisce, deve continuare e arrivare fino alla zona industriale, al Salento, deve essere collegata bene. Questi collegamenti sono fondamentali per uno sviluppo economico del territorio.